Prima seduta di Consiglio Comunale a Scafati per la seconda era targata Pasquale Aliberti, un Consiglio Comunale rinnovato rispetto al passato con una parte della ex maggioranza oggi schierata all'opposizione, parliamo del gruppo di Fratelli d'Italia. All'ordine del giorno della prima seduta, i punti di rito, il giuramento del sindaco Pasquale Aliberti, poi l'elezione del presidente del Consiglio Comunale, elezione mancata perché Pasquale Coppola, consigliere anziano che ha guidato anche i lavori della prima seduta, ha conquistato soltanto 16 preferenze, 9 i consiglieri che invece hanno votato scheda bianca, per cui bisognerà attendere 10 giorni una nuova seduta di Consiglio Comunale per procedere alla sua elezione. Poi ci saranno le linee programmatiche del sindaco Pasquale Aliberti, in aula anche i tre consiglieri che sono subentrati agli assessori che sono stati nominati dal sindaco solo sabato scorso e quindi Brigida Marra, Carmela Berritto e Stefano Cirillo. Prima della seduta di oggi si è svolta anche la prima riunione della giunta, il sindaco ha anticipato alcuni dei provvedimenti che sono stati approvati, si parte dall'adeguamento della pianta organica, ma presto si andrà in aula, ha detto a Liberti, anche per l'approvazione del bilancio. Ho detto che bisognava assolutamente accelerare, abbiamo messo in piedi la giunta a distanza di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, nel contempo e nel frattempo avevamo lavorato anche molto rapidamente e molto velocemente su una serie di questioni. Il 31 di questo mese andremo in consiglio comunale per approvare il bilancio che è lo strumento più importante di cui naturalmente si serve poi l'amministrazione per mettere in campo la propria azione di governo della città e nella prima giunta abbiamo approvato, ritengo un argomento importante, perché abbiamo approvato la nuova pianta organica, il nuovo riassetto organizzativo che è un po' frutto della mia esperienza, l'esperienza che ho maturato in questi cinque anni e che tiene conto naturalmente anche delle potenzialità che ha il comune di Scafati nelle proprie dipendenze. Risto Pizzeria Manu, il piacere della pizza, esattamente come ami tu.